Cosa svolgeva la fornace? Cioè, qual era il suo impiego? Cosa doveva fare di pratico? Io ho iniziato la fornace da 16 anni e sono venuto via che ne avevo 38 anni. Ho fatto i primi anni nelle macchine, dopo ho fatto 10 anni dentro i forni e lavoravo da mezz'ora dopo mezzanotte fino a mezzogiorno. Dipendeva perché era un lavoro contratto. La fornace era il lavoro più duro di tutti che ho provato nella vita mia. Però mi ha dato anche soddisfazione perché ci ho fatto tante cose che non c'avevo. Una volta si camminava a scalzi. La poteva scontare sotto i piedi perché dietro quel monte non c'era il vento, niente. Lì ci spiombava il sole. Ma lì quando boccavi dentro con calzottini corti basta. Quando boccavi dentro sentivi un bagno di sudore. Grazie. 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 Grazie.